Giovedì sarà il Castori Day. Il nuovo allenatore del Perugia è infatti atteso tra due giorni nella sede di Pian di Massiano per firmare un contratto di un anno con opzione per il secondo in caso di raggiungimento dei play-off, lo stesso che aveva firmato Alvini un anno fa. L'allenatore marchigiano diventerà il tredicesimo tecnico dell'era Santo Padre. Il patron bianco-ross ha scelto una guida tecnica che conosce benissimo la Serie B e che può dare continuità al progetto tecnico del Perugia. Castori ha vinto per due volte il campionato cadetto alla guida di Carpi e Salernitana e vanta 706 panchine tra i professionisti di cui 41 in Serie A e 493 in Serie B. Con lui potrebbe arrivare a Perugia un fedelissimo come Thomas Kupic. Secondo la nazione l'esterno polacco sarebbe infatti un obiettivo del direttore sportivo Marco Gianniti per coprire i buchi lasciati da Falzerano che ha concluso il contratto e non è stato rinnovato e Ferrarini che ha terminato il prestito ed è tornato alla Fiorentina. Kupic nell'ultima stagione ha vestito le maglie di Pordenone e Regina ma è stato insieme a Castori per diverse stagioni prima a Cesena poi a Trapani ed infine a Salerno. Castori l'ha utilizzato sia sul versante destro che su quello sinistro e quindi il classe 1990 potrebbe essere un buon jolly a disposizione del grifo.